Musica Principio di incendio sottotetto di un ristorante e pizzeria situato in Vibiaune a Cerie, questa sera, sabato 7 aprile, poco prima delle 19.30. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di San Maurizio Canavese, Torino e l'autoscala. I pompieri hanno subito domato le fiamme prima che potessero estendersi e divampare in un vero e proprio incendio e provveduto alla messa in sicurezza. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.